Allora, prescrizione di questa categoria, qui ricicliamo tutto, scegli qui qui una traccia che si fa una nuova versione, una vecchia per la performance che state a fare, invierà un'idea che è più corretta, più data massima per ognuno di voi, un di due del 45, ovviamente che non ci saranno fattori, quindi i giudici sceglieranno la loro performance. Io ho tre nomi, the first one is Lexi Tavoloso. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. E' un'unica di trascendere, che c'è un'unica di trascendere. E' un'unica di trascendere. E' un'unica di trascendere, Grazie a tutti. 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 per tutti coloro che pariranno per fare l'aria per fare l'aria e per la luce un altro grande ruolo per avere nazionale e internazionale quindi scusci sempre di poter essere una cosa nuova di questi esordi di tempo cazzi non è venire qua e a mia bocca e dai per l'altro è proprio una persona grazie di tutti grazie 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 Quindi perchè se, sempre buoni prima di�를ee Posso venire,�뛰udere? Se, siete... L'anno nuovo. Allora, Judges, Rivego, ai miei vedi che dice 3 Judges 1...2... Tutti insieme? Tutti insieme al mio tre, ok? Allora, se lo siete, mi parte prima di ormai e la donna. Allora, judges, are you ready for me? Vi leggo, armi le mie pelle di dice, e clara clara, 3 contages. 1, 2, insieme. Vorrate tutti insieme al mio tre, ok? Voi invitati a chi delle due persone che sono qui, dicono Deguati 1, 2, 3 1, 1, 1, 1, 4 3, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Buonissima! Buon applauso! Buon applauso! Buon applauso! Buon applauso! Buon applauso! Buon applauso! Allora ci siamo? Abbiamo la cosa?